bene amici di alessandro tech world benvenuti in questo nuovo video oggi facciamo una rapida unboxing e vi spiego un attimino il funzionamento quale prodotto acquistare quale non acquistare oggi parliamo di un caricatore d'auto della marca aukey in qualche quick charge 3.0 quindi il caricatore con la ricarica rapida dopo andiamo a parlare un attimino di come funziona il modello in questione il cct 8 costa su amazon ad oggi 11 euro 99 e dopo vi spiego perché comprare questo non comprare un altro modello che quasi simile andiamo ad aprirlo dentro c'è un piccolo libri cino che vi spiega un attimino come funziona la garanzia avendo acquistato su amazon non ho nessun tipo di problema un piccolo manualetto come se ci fosse da capire come poter utilizzare un caricatore d'auto lo lasciamo anch'esso da parte andiamo a prendere il prodotto in questione eccolo qua lo lasciamo un attimino da parte vi parlo di cosa c'è all'interno della confezione c'è un cavetto usb micro usb che funziona tra l'altro anche con i dati la sezione è piuttosto spessa quindi passa molta corrente e quindi a ragione del vero che è stato creato apposta per il quick charge che appunto deve far passare molta più corrente aumentando chiaramente il voltaggio e quindi ricaricando più rapidamente i dispositivi quali dispositivi devono essere compatibili con la tecnologia fast recharge quindi non di qualcomm in generale se hanno la tecnologia di ricarica rapida penso a samsung galaxy s6 samsung galaxy s7 e tanti 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 altri qui il loghettino della qualcomm 3.0 la particolarità di questo prodotto è che sostanzialmente è disponibile con tutte e due le porte in modalità fast recharge c'è un altro modello simile che ha una porta verde e lo stesso non ha la possibilità di avere due dispositivi in fast recharge ma soltanto uno ma siccome questo costava e costa anche oggi uguale quindi 11 euro 99 ho detto perché non comprare un dispositivo che abbia due porte fast recharge tenete conto che il dispositivo lo potete usare anche con dispositivi quindi smartphone che non su che non supportano la ricarica rapida funziona anche chiaramente con tablet potete ricaricare i power bank e anche qua spendo due parole perché se voi andate al mare ad esempio e avete un power bank e ce ne sono con la modalità quick recharge potete ricaricare lo stesso power bank in maniera più veloce e quindi più efficiente e dall'altra parte potrete ricaricare sempre il vostro smartphone in modalità sempre qui quick recharge l'ho provato funziona molto bene e direi che ok è una garanzia lo potete trovare su amazon vi lascio il link in descrizione credo per questo video sia tutto spero non mi cada se no ne dovrei ne devo assolutamente comprare un altro non vuole stare fermo io vi saluto e vi auguro una buona serata ciao dalle sanotequard